Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove. Ti spiego tutto. Avvia la condivisione. Siamo stati molto avventati. Ieri abbiamo colpito Miranda mentre era trasformata, ma non l'abbiamo uccisa. Chi immaginava potesse fingersi morta? Miranda poteva avere infettato Ethan, quindi ho portato lui e Rose con noi. Ma il veicolo che li trasportava è stato attaccato. Quando sono arrivato, Ethan e Rose erano spariti. L'ultima volta che ho contattato Ethan, ho sentito la voce di Miranda. L'ha ammazzato. E la pagherà molto cara. Porca puttana, quando finirà? Di che parla? Della missione? Di tutto. Da tre anni provo a chiudere questa storia. E tre anni sono troppi. La fermeremo, capo. La squadra è pronta. Così la BSA-A è già qui. Non hanno perso tempo. Il piano cambia. No, non c'è nessun cambiamento. Eliminare Miranda e salvare Rose. Questa è la missione. Ed è pietato fallire. Buttiamoci nella mischia, gente. Proprio come ai vecchi tempi. Muoviamoci. Ricevuto. Va bene. K9, scopri che ci fa qui la BSA-A. Indaga, ok? Ok, ci penso io. È tanto che non combattiamo assieme, capitano. Quando è stata l'ultima volta? Nel deserto? Facendo solo ricognizioni, sono fuori forma. Ma grazie a te, ora conosciamo il piano di Miranda. Non ci potevo credere che si fosse trasformata in mia. Prendersi cinque colpi in testa non è cosa da poco. Mi dai prividi. Ehi, Alpha. Guardi qui. La BSA... Stanno esagerando. Cristo. C'è un bel casino, lì. Come raggiungiamo l'obiettivo? Innanzitutto sbarazziamoci di quella roba. Conti su di me, capo. Brighiamoci. Attenzione alle armi biologiche ostili. Ricevuto. Contatto con un gruppo di armi biologiche ostili. Sono più di quante pensassimo. Attenzione. Attenzione. Il percorso a vesti è libero, vado. Ricevuto. Avvistato il veicolo BSA. Ah, due guardie. Un gioco da ragazzi. Non sottovalutarli. Che diavolo è quell'affare? Il mutamicete. È ovunque. Deve essere lì che si trova Miranda. Andiamo. Armi biologiche mutate. La muffa può rilasciare particelle andate. Non ti chiedetevi da rischiare. Cazzo, la strada è bloccata. Non si preoccupi. Faccia il giro del villaggio. Capo, sono io. Sono in postazione e mi preparo a fare fuori. Ci dovrà un minuto. Ricevuto. Qui Tundra. Capitano, ho lasciato dei rifornimenti in una casa. Si serva pure. Capitano, ho lasciato dei rifornimenti in una casa. Amber eyes. Mi serve sul porto. Mi serve sul porto. Mi serve. Mi serve. Ci Forex, ho lasciato il porto. Capitano, lo riprendono. Capitano, lo riprendono. Bisogna, non ci sono. Capitano, allora. Capitano, si spavano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho raggiunto la destinazione. Merda, è enorme. Va bene, Lobo. Ti indico il bersaglio. Ricevuto, capo. Venti, grande! Ricarico, prendo tempo. C'è un gruppo che viene verso di lei. Ok, capitano, sono brutto. Quando vuole. La muffa si esponde rapidamente. Può esserci qualcosa che la stimola. Non c'è un gruppo che viene verso di voi. Non finisco. Non finisco. Non sono le armi biologiche. Tutti i laser sull'obiettivo, poi me la vedo io. Altre cinque dalle montagne. Pagliel, lato oeste. Sono vicini, faccio io. non è ci vuole circa un minuto per mirare e alla servizio il più possibile c'è un punto con il percorso aspetti un attimo sto ricaricando non è 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 ... non è non è non è Grazie a tutti. 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 Dove deve essere il laboratorio di Miranda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spencer? Spencer? Non ci credo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.